2, 1, let's go! E siamo a 15 secondi trascorsi 20 25 30 35 40 E qui sta dall'applauso Di Monteroni di Lecce Da qui tutta l'energia Tutta la passione Tutta l'esperienza Tutto il lavoro Per raggiungere l'obiettivo Ancora più in su Ancora più su E siamo A 60 61 62 63 64 65 E signori Ce l'hanno fatta A raggiungere l'obiettivo